Sì, mince. L'ultima è sempre cattiva, non devi stare sotto la radice subito, e la chiudi su quella l'ultima. Ah, ti fa scendere, devi scendere da qua. Eh sì. Ma vai cagliato, su di qua e vuoi fuori. Ma quando arriva in moto, gliela faccia fare anche lui però. Ma non c'è problema. Al contrario. Ma no, figa, perché è brutta. Non è brutta. Ma a me non mi piace. ... ... ... ... Via! Via! bravo indietro il peso giù di lì che devi andare su ancora a tagliarli? ma non ti fermare fermati il meno possibile su questo terreno no la perdi non ti fermare 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 negli non ti fermare non ti fermare ma non ti fermare è ancora Allora! Allora! Ma sei cotto! È cotto! Via! Via! Chiodi! 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 Non fermarti! Vai! Mi! A uno! A uno! Bella, bella! Buon Natale! Ci vediamo la settimana! Ci sentiamo! Zoomiamo! Quando vuoi! Sei tu il direttore! Buona domenica! Buon Natale!